La ConfCommercio ha fatto il punto della situazione del terzo trimestre sull'andamento generale del terziario. Insomma, alla fine si è cercato in qualche modo di avere qualche luce positiva, anche se, per carità di Dio, le voci principali, ricave e occupazione continuano ad essere in calo e i rapporti con i fornitori e i tempi di pagamento hanno veramente una leggera ripresa. Comunque nel dettaglio il focus nel terzo trimestre 2013 vede una fiducia sull'economia italiana a meno 60,1% dal meno 63% che era. Un tasso di fiducia sulla propria impresa che è peggiora perché va a meno 43% nel trimestre scorso dal 41,3%. L'indicatore dei ricavi è meno 39,3%, prima era 38,6%, quindi un mezzo punto percentuale di differenza. L'indicatore della crisi occupazionale è questo sì che è un bel colpo perché passa da 20,6% a meno 23,1%. L'indicatore dei rapporti impenditore-fornitore è meno 26,3%, era 27,4% lo scorso trimestre. L'indicatore dei tempi di pagamento migliora leggermente da meno 41,1% a meno 37,7%. Le imprese che hanno chiesto un fondo sono passate dal 21,1% al 20,8%, quindi quasi stazionario. Le imprese che hanno visto accolte la propria richiesta passano dal 38,8% al 38% anche qui quasi stazionario. Insomma, nello spulciare questi dati cerchiamo di giocarci con qualche decimale per dire che c'è qualche luce in un buco nero completamente oscurato da tutto e da qualsiasi cosa.